Il nostro obiettivo oggi sarà costruire un cannone di TNT potente abbastanza da distruggere il muro e spazzare via l'intera isola dell'avversario Questa sarà la mia isola e questa l'isola di Marci Adesso devo seguire i consigli di Loco e creare il cannone di TNT più potente in assoluto per fare breccia su questo muro e uccidere il mio avversario Ragazzi lasciate immediatamente tantissimi mi piace per il ritorno delle guerre con i cannoni di TNT Marci vuoi dire qualcosa? Solo tanti mi piace Solo tanti mi piace Solo tanti Pochi non ne possono lasciare No dovete lasciarne almeno 33.337 Mi sembra giusto 3337 Allora ragazzi qua ci sono tutti quanti i materiali che ci serviranno per creare il nostro cannone di TNT Io ho imparato a fare dei cannoni abbastanza potenti grazie a Loco Quindi prendiamo tutto e iniziamo Marci 3,2,1 vai Mi sta preparando tutti i blocchi Allora mi serve una fence perché Loco mi ha insegnato a fare un cannone di TNT automatico Che è veramente potente però lo devo fare abbastanza distante da te altrimenti rischio di non riuscire a rompere il muro Anche sto provando a farne un automatico ma sai che non so se sono buono a farlo ci provo eh Eh non è facile fare il cannone automatico a me l'ha insegnato Loco Io ci provo Allora se non sbagliare era così poi devo prendere dei blocchi e se non sbagliare 1,2,3 Ok sì 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 poi era così e andare avanti 1,2,3 Oh mamma mia Marci Io ho sfondato la porta Come hai sfondato la porta Marci devi sfondare Non volevo più vederla quella porta Ma devi sfondare a casa mia mica la porta La porta la porta Quello che sto seguendo anche io c'è la fence Vediamo un po' se si fa bene Vediamo che è lo stesso dobbiamo fare lo stesso cannone Ma non c'è la fence qua c'è la fence Allora poi qua si mette il dispenser che è già pieno di TNT come vedete Ovviamente qui ho sbagliato perché devo togliere questi blocchi e li devo fare diventare dispenser Quindi posizionamoli 1,2,3 e 4 E ora devo creare il mio meccanismo automatico proprio qua Ok bene 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 mettiamo la nostra acqua qui che si dovrebbe interrompere grazie alla pressure plate Fantastico adesso ci serve la redstone che non ho preso sono un genio ecco Anch'io non ho preso la redstone Dove cavolo è eccola qua la redstone Mamma mia questo cannone ragazzi sarà devastante non vedo l'ora di provarlo Mettiamo i nostri amici repeater No non così Com'era così Ok E mi aveva detto di mettere i tic al massimo Quindi tic al massimo Bene Marci ma stiamo facendo lo stesso identico cannone Non lo so non lo so boh io ho cercato il primo Io vorrei sbirciare ma non posso Anche questi ragazzi come vedete sono pieni Pieni zeppi di TNT Allora redstone così Poi un blocchetto qua in alto E adesso è tutto un gioco di repeater se non mi ricordo male Vero loco? Dov'è loco? Loco? Dov'è loco quando serve? Marci che è successo? Perché stai ridendo? L'ho fatto che punta verso il cielo Ma che cavolo? Cioè ma tu vuoi spararlo di là il cannone? Verso il cielo? Dai ti do un minuto per rifarlo Datti una mossa Marci Sì sì lo rifaccio Mamma mia Comunque sei proprio come dici tu una pigna Sono una pigna sono Sei proprio una pigna Ok questo dovrebbe essere il mio cannone automatico Ciò che devo fare adesso è mettere un pulsante qua Anch'io stavo sbagliando una roba Qua non va la redstone E il pulsante questo lo devo mettere Ma se non funziona ma cosa succede? Che sono un nabbo? Se non funziona sei un nabbo Io voglio testare il mio Via! Voglio vedere se funziona Ma non ha funzionato Vediamo se ora vanno Ho sistemato i repeater Sì ok ora vanno Vai ecco la TNT Oh mamma mia che bella botta Eh ma mi tocca Mi tocca anche a me farlo Aspettami Oh mamma mia Marci Mi stai già bucando tutto vero? Il mio sta già distruggendo tutto quanto praticamente Guarda L'ho fatto partire adesso Oh cavolo Oh mamma mia Io lo devo interrompere Lo devo interrompere un attimo però Fermo Fermo Super cannone spaziale Fermo Come si interrompe? Ok So io come si interrompe Devo soltanto togliere questo Ok Però ho bisogno di un altro cannone adesso Devo farne uno più piccolino ragazzi Devo fare un cannone piccolo Ma io sto sfondando la mia base comunque Come stai sfondando la tua base? Marci Ma che cavolo stai facendo? Allora per questo cannone Loco ci ha insegnato Che dobbiamo fare così Repeater così con i tic al massimo Dopodiché dobbiamo mettere il dispenser Che è così No Fermo Ecco appunto Oh ma che sono queste esplosioni Marci? Allora piazzo questo Poi no Così Sì Mi sembra giusto Prendiamo di nuovo il nostro pistone appiccicoso Il nostro slime Ok Col piccone appiccicoso Col piccone appiccicoso Se questo funziona Marci Siamo Ok si che funziona Lo accendo anche il mio? Io accendo questo e accendo anche questo La redstone l'ho messa Via Ho quello automatico E ho anche quello che devo schiacciare io Oh cavolo Marci sei fregato Questo muro lo distruggeremo adesso Mamma mia Mamma mia No 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 Fermo Aiuto Ehm Così combinato Potrei aver fatto esplodere il mio cannone Porca miseria Ma come? Come procede? Oh ma guarda che abbiamo fatto già una bella breccia sul muro Sì sì infatti vedo già il buco io Ahia Ma che cavolo fa il cannone? Mi spinge a me mi spinge Mi ha fatto malissimo Oh guarda si stanno incastrando le TNT Io adesso ne creo un altro Devo creare un altro cannone come quello di prima Con il pistone Quindi è semplice Devo fare uno Due Ma tu sei fortissimo Sono incapace Poi così Ma va A me ha insegnato tutto quanto loco Poi questo qua al massimo È arrivato? Ma aspetta Quella è la tua TNT che mi arriva a casa? Non so vediamo Adesso devo mettere un altro repeater Questa volta storto Così Tic Al minimo Guarda che ti vedo che mi arrivano le TNT eh Eh ma io Marci sono pronto Ora ti faccio esplodere di nuovo Io sto provando a fare una mia versione Ti dico solo questo Vai Ok Ok Funziona Dovrebbe esserti arrivata la TNT a casa Guarda Sì 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 Dobbiamo riuscire a creare tanti cannoni in ogni angolo Così da poter distruggere tutto il muro Vediamo Io quasi quasi Ne farei un altro Qua Di nuovo Pistone Slime Poi questo No No Ma non ti è arrivato ancora niente qua Ma non va mica bene questa cosa A me non mi è ancora arrivato nulla Eh perché i tuoi cannoni sono patacchi Scusami Questo Mettiamo il pistone qua Poi lo slime qua Il repeater invece lo si mette Storto Così Ok Due tick Bene Io c'ho un doppio cannone tra non molto Marci Ma arriva qualcosa da te adesso? Uno No però tra un po' da te arriverà tanta roba Marci Guarda quanti cannoni che c'ho Mamma mia Mamma mia che esplosione assurde Sei pronto alla guerra Marci? No 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 Che cavolo è successo? Ma porca la miseria Ecco Mi si sono rotti i cannoni di nuovo Cioè io sto praticamente sabotando la mia stessa isola Ma quello lì in altissimo Guarda lì in alto Oh mamma mia No Marci mi è arrivato il cannone Ma Ma come Me l'hai distrutto? No Veramente Marci vieni subito qua a vedere Non ci posso credere Mi ha Sei riuscito a distruggere il mio cannone Non ci credo Vieni qua Ma sai cosa ho fatto? Ho preso il tutorial E l'ho cambiato a caso Come le cambia? Marci Me l'hai fatto esplodere Eh ma non ti ho fatto morire però Mi dispiace E il tuo invece Ma tu ne hai due? No quello lì è rotto Quello che va dall'altra parte Ah aspetta proviamolo Vediamo se funziona Il fantastico cannone di Marci Che spara verso l'infinito Allora guarda Ti insegno una cosa Vieni qua Ti insegno una cosa Ok Vedi che ho Ho cambiato un pochettino i tic Dei 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 repeater Guarda cosa fa Ok Te lo fa andare super in alto Vediamo No Marci Che cavolo Non funziona Ma che dici? Non ha funzionato Cioè ti ha funzionato una volta E sei riuscito a rompere il mio Ah perché Sei tolta la redstone qua Vedi? Ecco perché non funziona più Ok ora dobbia funzionare Vediamo Eh Cosa? Sì Ok dammi un secondo Che vado a rifare il mio Allora la tregua è finita o no? Scusami un attimo Ah c'è Ah grazie Dai Grazie per la tregua Io ho avuto il tempo di fare tre cannoni automatici Nel frattempo Oh è arrivato qui da me Ma sei matto? Vediamo la potenza dei miei cannoni Oh mio dio Ragazzi guardate la potenza Vanno oltre il muro Eh ne ho fatti tre Io guarda Io adesso Visto che questi sono automatici Oh cavolo Marci Me ne hai distrutto uno Ok me ne hai distrutto uno Qua invece mi è andata via soltanto la redstone Quindi la posso semplicemente ripiazzare E via Vai 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 parte Sì ok perfetto parte No Marci Allora tu in pratica stai riuscendo a prendere il centro della mia isola Eh ma sono il centro però Eh io c'ho altri due cannoni nei lati Ma che cavolo hai combinato qua? Vediamo Mi hai rotto tutto Cosa? Non è possibile E io che volevo fartene partire uno leggermente prima Eh il tuo cannone Marci mi sa che si è un po' distrutto Vuoi un po' di tregua? È finita Oh mio dio che bombardamento ragazzi Guardate i miei cannoni automatici Che distruggono il muro No È la povera isola di Marci Dove sei? No Marci Sei morto Il tuo cannone mi ha preso Ti ha spinto giù Mi ha lanciato nel vuoto Il tuo è rotto ma continua ad andare Guarda qua Ma se non è che sto arrivando C'è soltanto un dispenser che tira Ma no ma da dove esce tutto Satiniti Scusa Guarda Dai Marci hai tempo hai tempo Prendiamo il pulsantino e via Vediamo se funziona O no O no Fermo No No Porca miseria ho sbagliato qualcosa Vediamo il tuo Hai modificato il tuo cannone? No no non ho modificato Sì ho messo Sì Ah va oltre devi farlo più lento Sì questo è buono Questo è buono mi ha distrutto la base La base però è in bedrock quindi Oh oh Quasi mi stavi distruggendo un cannone Oh mio dio Marci No 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 Ecco me l'hai distrutto Me l'hai distrutto Sì Ok io direi di interrompere i meccanismi Stop Stop al gioco Rompiamo tutto Vediamo i danni che abbiamo fatto Quantificandoli direi che la mia base non c'è Questa è la tua isola Resta praticamente solo il centro con i cannoni Perché il mio cannone centrale si è rotto Sì perché sono riuscito a rompertelo io Sì è il mio invece Ok Dite voi ragazzi giudicate voi nei commenti secondo voi chi ha vinto In base a quanti danni c'è nell'isola dell'altro Sì Secondo me siamo abbastanza pari sai Sì però hai fatto la giocata Con la TNT che hai buttato davanti Che mi ha beccato che mi ha buttato nel vuoto Eh si è caduto Ragazzi fatemi sapere se volete vedere delle altre sfide con i cannoni di TNT contro gli youtubers Questa avventura è stata veramente super super divertente Lasciate un bel mi piace immediatamente E iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao Ciao